Il vostro evento al Teatro Parenti ha inaugurato la settimana della comunicazione poche sere fa e tra l'altro presentandone la campagna che emerge da un open source come insomma è ormai nelle vostre corde, il vostro pensiero, la vostra filosofia e che ha fatto anche molto discutere. Parla di ibridazione ovviamente con un'immagine piuttosto forte perché è un uomo animale cioè animali comunicanti che mistano i loro linguaggi, evolvono e si trasformano in cosa? Ma guarda prima di tutto si è la nostra campagna è una campagna come al solito concepita collettivamente e ci tengo molto a dirlo c'è dietro la maestria fotografica di Anna Mainenti, c'è il lavoro creativo di Mauro Mercattanti e Melania Angeloro, lo dico subito perché la collaborazione con loro per noi è una cosa preziosa ed è nella logica come tu dicevi dell'open source che noi abbracciamo. è una campagna che è piaciuta ad alcuni, non è piaciuta per niente ad altri, anche questo ci fa piacere perché si discute e perché in qualche modo è al passo con i tempi, con i nostri tempi in cui la trasformazione e l'ibridazione sono dei temi fondamentali. Come tutto questo si traduce in alta via? Come sono i vostri tempi e come vi state trasformando? Tra l'altro sento anche dei lavori di ristrutturazione che riguardano proprio anche la fisicità della sede perché la trasformazione non è solo interiore ma si riflette anche all'esterno. Allora, a costo di risultare velleitario e un po' paradossale, noi abbracciamo l'idea, io abbraccio l'idea che questo sia un periodo fortemente positivo, è un periodo fortemente positivo perché ovunque c'è del cambiamento c'è da auspicare e da adoperarsi perché questo sia un cambiamento che va verso il miglioramento e penso che questa sia una situazione di questo genere. E allora come lo viviamo noi? Noi ibridi in qualche modo rispetto alla comunicazione, lo siamo sempre stati e questo lo dico sempre, siamo alle volte, ho detto, noi siamo più veloci a cambiarci d'abito perché siamo perennemente in accappatoio, non abbiamo mai scelto un modo preciso e così, uno stile eccessivo con cui presentarci e questo per me è un vantaggio. ritengo questo periodo un periodo, dicevo, un po' rinascimentale per la nostra società, la nostra società non Altavia ma la società in cui viviamo e per Altavia ugualmente rinascimentale per cui noi abbiamo una visione, abbiamo un futuro, stiamo, come stavi dicendo, facendo dei lavori di ristrutturazione del nostro immobile, di questo spazio per cui questo spazio alla fine di quest'anno una parte, prima di Expo sarà completamente rinnovato pur conservando tutta la sua natura di antica risiera eccetera ma speriamo di farne uno spazio anche di ristoro ma questo lo racconterò più avanti quando sarà un progetto più avanzato ma soprattutto sarà uno spazio aperto, aperto al quartiere, aperto alla città e orientato all'open source dove la gente potrà venire a lavorare per singoli progetti, potrà sedersi, mangiare, discutere, parlare di comunicazione ma parlare anche di società, di quartiere eccetera eccetera. E' brutto, probabilmente più che brutto sembra banale dire che la comunicazione così come l'avevamo intesa e con essa le agenzie di comunicazione così come le avevamo pensate sono morte, però forse è veramente quello che si nasconde dietro la realtà del nostro periodo, cioè nascono nuove entità, nuove realtà, probabilmente c'è più ectoplasmi che non forme definite, rigide. Ma intanto nel dire che sono morte, io più volte ho detto che sono morte ma nel senso positivo, lo dico con il massimo rispetto, morte in quanto di nuovo trasformazione e quindi grossa opportunità. Obiettivamente a Milano le agenzie di comunicazione sono state una risorsa enorme per la città e per il progresso e adesso hanno generato tutta una serie di professionalità che si sono un po' polverizzate nel tessuto sociale e produttivo. In questo senso sono morte perché questa impostazione tradizionale non ha più ragione da essere, non ha più ragione da essere in un momento in cui tutto si mescola, in cui tutto è comunicazione, in cui paradossalmente è un po' meno comunicazione che la comunicazione tradizionale. Allora, in questo senso sono morte, in questo senso si stanno trasformando in realtà, la comunicazione si sta trasformando forse prima delle agenzie tradizionali. C'è una mescolanza totale tra pensiero e azione, tra concezione e produzione, e i mezzi, i media sono tutto e media e ancora una volta in media tradizionale forse lo sono un po' meno. In questo enorme cambiamento noi ci troviamo molto bene e sappiamo che abbiamo e avremo molte cose da dire. Tra l'altro, esatto, so che molto bolle nella vostra pentola, ma che vuoi parlarne solo quando i tempi saranno maturi, appunto esponendono al mercato cose certe e non solo progettualità. Però il fatto che hai menzionato l'Expo, ci tornerei, perché tu ci credi molto, cioè lo ritieni una grande opportunità, non solo insomma un nome da spendere così ipoteticamente, ma veramente un'opportunità di business. Per me, sempre nella logica del nuovo rinascimento, l'Expo sarà per Milano e per l'Italia, ma per l'Italia come benefici economici di rinnovamento un'opportunità incredibile, un'opportunità incredibile perché permette di aprire il nostro paese con tutte le sue eccellenze al mondo. È partito un po' lento, un po' come siamo abituati a fare come nazione, come sistema, siamo sempre un po' così pigri all'inizio e poi facciamo una gran corsa finale, è una caratteristica anche della mia società, ma sono convinto che sarà un'opportunità grossa, stanno arrivando i paesi stranieri, gli investitori stranieri, stanno arrivando grossi capitali, stanno arrivando moltissime opportunità. Sarà una prova generale, una prova generale di apertura. Sono sintomatici i numeri che prima mi citavi, che insomma fanno capire che è un piatto a cui nessuno dovrà rinunciare. I numeri sono forti perché ogni paese straniero, e sono 139 se non sbaglio, per partecipare all'Expo ha stanziato cifre importanti che vanno dai 20 ai 50 milioni di euro, per partecipare ma soprattutto più di 20 milioni di persone che arriveranno, la Cina che ha già detto che manderà un milione di persone, Milano che sarà veramente un melting pot, ma positivo, vivo, innovativo, un fuori salone che sarà un fuori Expo che durerà un anno e mezzo, e forse anche di più perché ci sono delle iniziative che partono prima. Voi siete già con dei progetti concreti su questo fronte? Noi abbiamo più di un progetto concreto, uno preferirei aspettare, sarà l'occasione di una prossima intervista, spero, con un paese coinvolto in Expo, e un altro invece a cui teniamo molto per il nostro impegno sociale, che è il sostegno di Plane Finance, con cui faremo 30 importanti eventi nella città, prima e durante Expo.